Slitta ancora il rinnovo dell'ex provincia, come avviene ormai da molti anni, affidando l'amministrazione ordinaria ai commissari nominati dalla Regione. È stato approvato nella serata di ieri all'Assemblea regionale siciliana un emendamento del deputato Nello Di Pasquale del Partito Democratico, con il quale vengono rinviate le elezioni di secondo livello per i liberi consorsi dei comuni, previste in un primo momento a fine marzo. È da sette anni che le elezioni, pur di secondo livello, vengono rinviate per i motivi più svariati. Ieri sera l'ennesimo stop al voto, previsto per il 28 e 29 marzo di quest'anno. Il governo, contrario al rinvio, è stato battuto in aula col voto segreto, 38 favorevoli e 16 contrari all'emendamento del deputato Di Pasquale, votato dall'Assemblea siciliana e che ha rimandato le elezioni. Contro il rinvio ha votato Forza Italia, ma tanti sono stati franchitiratori nella maggioranza che sostiene il governo musumeci. Verosimilmente avrebbero votato contro l'emendamento i deputati di maggioranza della provincia di Ragusa.